Finalmente ci siamo, finalmente oggi andremo a scoprire tutti i segreti che si nascondono all'interno della mappa Andremo a vedere chi sarà la skin misteriosa e il bunker, l'agenzia, l'organizzazione che è sotto la mappa Sarà buono oppure sarà cattiva? Ma prima come stavolio andiamo a fare un regalino a uno dei miei bellissimi iscritti al canale Perciò mi raccomando se anche tu vuoi un regalo iscriviti ora attivando la campanellina delle notifiche Troppo a subito un bel like furbetto sotto questo video Invio regali in corso Tutti i regali sono stati consegnati, GG e buon divertimento con questa incredibile skin E solo e solamente se ti piace il mio video all'interno del negozio già ti supporta un canale più fresco del centro Italia R4SCO Prima di buttarci in game voglio far vedere una schermata segreta che appare dal momento che raggiungiamo il livello 100 Guardate queste skin sono assurde Sono le ricompense cristallo che come nella precedente season erano uscite le ricompense bronzo, argento e oro Qui avremo le ricompense cristallo, le ricompense non lo so, credo sia oro, lo scopriamo più avanti E poi lo stile punto zero, è davvero incredibile questo stile Ovviamente avremo di tutte le skin del pass battaglia a parte la signorina Alexa che è stupenda Aspettate sto facendo una serie di casini, cosa sto facendo? Voglio andare all'interno? Ok ci siamo Diversi giorni fa è uscito all'incredibile skin di Kratos che è una skin davvero assurda E tutti i possessori di PlayStation 5 hanno potuto ottenere questo stile davvero incredibile Proprio dal re della guerra Ovviamente perché è un gioco esclusivo di PlayStation Ma attenzione uscirà anche la skin di Halo che è un gioco esclusivo Xbox Quindi tutti i possessori di Xbox sicuramente riusciranno ad ottenere uno stile dedicato solo per chi ha l'Xbox Proprio come è successo per la skin di Kratos Ma se scorriamo il pass della battaglia andiamo a finalire tra le ricompense in carico E guardate che cosa esce fuori La schermata di caricamento della signorina Mida in versione femmine Ora non so esattamente come si chiamerà Fatto sta che sarà sicuramente una skin che potremmo acquistare all'interno del negozio oggetti Ma ora vi faccio una domanda Secondo voi Mida, il vero Mida è morto quindi lo squaletto lo ha chillato e poi è diventato fantasma O comunque non lo vedremo più all'interno del game oppure tornerà Vi sto dando un po' di tempo per pensarci Io nel mentre mi sono già buttato in game perché ora vi faccio vedere una cosa che sarà incredibile Sicuramente ci toglierà tutti i dubbi Entriamo all'interno di questa sorta di casucola qui a semi d'agrifoglio Attenzione, attenzione, c'è una scatola, la distruggiamo, un'altra scatola, la distruggiamo E amici miei, qui inizia il bello Guardate questo water d'oro Poi abbiamo anche un altro vaso oro E alla fine c'è un ognomo d'oro Quindi secondo me il signor Mida sta ancora girando all'interno della mappa Oppure potrebbe anche essere che la versione di Mida femminile ha lo stesso potere E quindi qualsiasi cosa che tocca diventa oro Lo scopriremo sicuramente più avanti Sto raggiungendo covo del cacciatore perché qui c'è una roba che è ultra segreta Eccola qui è già uscita fuori Oh mio dio come potete vedere alle volte escono questi scagnozzi fastidiosissimi Che vado subito a chillare Che tra l'altro sono davvero molto molto forti anche perché sparano tutti e tre Comunque li abbiamo distrutti Avviciniamoci a questa struttura perché è una struttura sicuramente segreta Misteriosa e sembra essere una sorta di ascensore Io credo anche che sia un teletrasporto Perché come potete vedere alle volte escono i scagnozzi Ma escono anche altri oggetti addirittura provenienti da season molto molto vecchie Quindi credo che più che un ascensore sia un vero e proprio teletrasporto Chissà cosa c'è qua sotto Anzi tra poco lo andiamo a vedere Ma prima vi voglio far vedere un altro segreto proprio qui a covo del cacciatore Mi sto dirigendo all'interno di questa casupola perché guardate qui che cosa troviamo Ecco qui questo oggetto Che sicuramente qualcuno di voi si ricorda all'interno delle precedenti season È esattamente un bruto in una versione un pochettino aggiornata credo Che sicuramente farà il suo ritorno all'interno del game di Fortnite Qualcuno lo sta costruendo non so chi perché la signorina Jules La meccanica faceva parte della precedente season Quindi non so chi sta mettendo mano alla costruzione di questo bruto Però attenzione perché molto probabilmente potremmo vedere anche questi mega mostri meccanici Che appartengono a Star Wars Sapete bene insomma che questa season è collegata direttamente a Star Wars Quindi forse vedremo l'introduzione di questi mega colossi Sarebbe davvero molto molto divertente perché hanno dei raggi laser E quindi potremmo anche utilizzarli al momento che ci muoviamo Ma non è finita qui perché questo posto brulica di misteri di segreti Perché questa è ufficialmente la casa del mandarino E lo chiamo così non so come si chiama Mandalorian insomma Occhio perché c'è un simbolo qua davanti Noi apriamo qui c'è una sorta di cabina di controllo con questi due monitor E qui troviamo la nostra povera bananita che è stata nettamente carbonizzata Sembra dire no ma io non c'entro niente Purtroppo lo hanno carbonizzata Non ho fatto in tempo a scappare Occhio perché sempre qui a covo del cacciatore Io ve l'avevo detto che era una città ricchissima di segreti Ritroviamo lo stesso simbolo che abbiamo visto prima Entriamo all'interno di questa casupola E vediamo un po' cosa troviamo qua sotto L'ascensore veniva da sotto Quindi probabilmente è qua sotto che avviene il teletrasporto E attenzione amici miei C'è proprio una base, un'agenzia, un'organizzazione segreta Ancora non sappiamo tanto di questa roba Però sembra essere l'agenzia dell'agente Jonesy L'organizzazione per cui lavora il nostro agente E io credo proprio che la skin misteriosa di questo pass battaglia di questa season Sia proprio l'agente Jonesy Infatti dovrebbe essere tutto connesso E chissà che cosa vogliono dire questi simboli Durante il corso della season uscirà sicuramente qualcosa in più Ma per il momento questo rimane il posto più segreto e misterioso All'interno della mappa di Fortnite Insomma qui a Covo del Cacciatore hanno messo una marea di roba Una marea di spoiler E una marea di misteri che si sveleranno durante il corso di questa season Tanto ancora mancano 99 giorni prima che finisca Oh mio Dio è lunghissima Mi sono buttato in game perché i segreti non finiscono qua C'è ancora qualche mistero da svelare In realtà c'è tutta la season da svelare Però attenzione perché all'interno di questa isoletta A volte appare un personaggio molto strano E credo proprio che non è apparso in questo game Perché non lo sto vedendo Signorino ci sei? No, credo proprio che non è apparso qui Oh forse ci siamo sì Finalmente è il sesto game che starto Raga finalmente l'abbiamo trovato Eccolo qui il fantasmino Stiamo attenti speriamo che non venga nessuno Qui altrimenti ci killano anche Ok penso che possiamo parlargli tranquillamente Buona... No? C'è qualcuno? Ok io per non sapere leggere e scrivere Arca la miseria c'è qualcuno davvero? No maledizione! Si l'abbiamo killato raga che fortuna Cioè che fortuna Dopo 8000 tentativi Buonasera signor Jonesy Bunker Come avete potuto vedere è una cosa insolita Perché comunque non spoina sempre Quindi questo è un big big segreto Tutto comincia ad avere senso Non vedi? Cosa intendi? Il loop non capisci Siamo tutti dentro un grande loop Ora noi gli possiamo fare le peggiori domande che vogliamo Ovviamente solamente queste Allora cosa fa questo loop? È un loop Tu, io, il tempo, lo spazio È tutto un grande loop Se fuori di testa hai la certezza Aspetta un attimo Non sei uno di loro vero? Chi sono questi loro? Non so di che cosa parli No sono solo io Conosco un segreto su questo loop Un segreto così importante Che 9 Jonesy su 10 Vorrebbero che non Non si sa Non so proprio di che parli Il segreto Che cos'è il punto 0 Ma perché ci sono tanti altri Jonesy? Io dico Ma che cos'è il punto 0? Vediamo che cosa succede Il mio compito era saltare dentro il punto 0 Per vedere cosa accadeva Cos'è successo il segreto? Cos'è successo? Credo che sto ancora vedendo Quello che è accaduto Oh mio dio Ok Il segreto vediamo Esiste un modo per uscire dal loop Punto Ok Cosa c'è fuori dal loop? Posso fuggire dal loop? Cosa c'è fuori dal loop? Se te lo spiego non capiresti Perché nemmeno io ci capisco niente E sarei io a spiegartelo Ok Sì Fila tutto nella logica Posso fuggire dal loop? È troppo pericoloso Anche solo chiederlo Farò finta di non aver sentito Ok Ma quindi posso? Mi sa che lo stiamo perdendo E farò finta di non sentire le altre domande È per il tuo bene Io ho fatto domande totalmente random Totalmente a caso E siamo arrivati fino a questo punto Fatemi sapere qua sotto nei commenti Se scoprite qualche altra cosa Qualche altro segreto Legato a questo signor Jonesy Bunker È davvero difficile trovarlo Io l'ho startato 8-7 game E per concludere il nostro viaggio All'interno dei segreti di questa season Sto raggiungendo il Colosseo Che è un punto che io adoro È uno spot che io adoro Perché qui c'è un altro segretino All'interno delle pareti del Colosseo Insomma dove la sabbia Come potete vedere Ora sono spoinati questi attrezzi Che si utilizzavano insomma Nell'antica Roma Per far combattere i gladiatori Ma alle volte può sponare anche Il lama con il granchio All'interno della precedente season E anche altri edifici Così randomaticamente Non c'è un senso legato a questo spawn Una volta vi può capitare una cosa Una volta vi può capitare un'altra cosa Ma ci sono tanti tanti altri segreti Che ancora vi devo spoilerare All'interno di questa season Che sicuramente vi metterò All'interno di un nuovo video Amici miei Perciò mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Attivando la campagna delle notifiche Troppate subito un bel like sotto questo video Anche per ottenere delle skin O il pass battaglia gratis Di questa nuova season 5 E solo e solamente Se vi piace il video All'interno del negozio Gli altri supporto Al credere più bello Più fresco Più croccante Del centro Italia Only one code R4 Scode Ora come al solito Vi lascio due video Sopra il vostro schermo Quindi andate a vedere Questo oppure quest'altro Insomma Cliccate sul video Che più vi piace Noi ci vediamo prestissimo Con tutti gli altri segreti Legati a questa nuova Season 5 E L'estra Sopra